San Teodoro. 5 settembre 2023. Tragedia in Sardegna. Un uomo nella provincia di Massa Carrara. Data Davide. 41. È stato trovato dal suo partner a letto la mattina di lunedì 4 settembre. C'è stato l'intervento di 118 ma l'uomo era già. Morì nel sonno. La coppia era a San Teodoro per un periodo di vacanza. Catena ben nota dei prodotti IT. La famiglia e i molti amici sono scioccati. La morte sarebbe attribuibile a cause naturali. Tuttavia, il procuratore di Nuoro ha ordinato l'autopsia sul corpo. La coppia è rimasta in un bed colazione. Impreso dopo l'allarme della ragazza. 118 e carabinieri si sono precipitati nella struttura. Grande condoglianze in massa. Passionati di calcio. Viaggi. Motori. Dati di Davide ha fatto molti sogni e molti progetti. Un ragazzo come pochi altri. Un esempio per molti. Sempre gentile con un sorriso da lontano. Questa è una delle centinaia di messaggi che possono. Essere letti sui social network dedicati ai dati di Davide. Grazie. Grazie.